Ciao, ti faccio vedere brevemente come funziona il workout che ho condiviso sull'uso del plettro. È una pagina di Notion che condivido, quindi puoi anche modificarla, aggiungere o togliere cose. All'inizio ci sono le finalità, spiego che iniziamo con quattro riff, uno su una corda sola, uno su tutte le corde, uno con delle accelerazioni in cui passiamo da ottavi al sedicesimo e uno con delle ghost notes, quindi sono quattro groove che propongo. Qua metto un metronomo in accelerazione che puoi far partire per studiare, lui parte da 60, ogni quattro battute va avanti di un BPM fino ad arrivare più avanti a 130 alla fine. Vedi che qua è 96, lui pian pianino continua ad andare avanti. Tu puoi continuare a suonare il tuo riff, man mano il metronomo sale e puoi vedere fino a che velocità raggiungi. Qua sotto ci sono le partiture con le tablature dei quattro riff. Metterò anche dei video in cui spiego ditteggiature e come andarle a suonare. Qua c'è un altro metronomo in accelerazione, questo scandito però dai sedicesimi. Anche qua parte però da 50 e arriva a 125. Questo qua è anche utile perché ci abituiamo così a essere più precisi e poi abbiamo sempre i sedicesimi sotto che girano. Quando vuoi invece lavorare sulla velocità di punta allora ho condiviso questa batteria sempre con i sedicesimi, cassa rullante più Charleston i sedicesimi, con velocità modificabile. Quindi adesso era 84, io posso andare su o scendere fino a quanto voglio. Dopo metto un database che con chi conosce Notion sale il grande potenziale di questa piattaforma che ci permette di fare praticamente tutto. Qua io metto i quattro groove, una velocità comfort che puoi segnarti tu, chiaramente la tua, una velocità limita a cui inizi a perdere colpi, quindi su cui lavorare sulla precisione su quello e poi una spunta se l'ho provato col metronome in accelerazione. Quindi può essere una cosa che giornalmente ti metti lì e puoi spuntare, non spuntare, segnarti le velocità. Poi a fine posso anche scaricarmi il pdf con i quattro groove se per caso ti servono per altre tue cose. Ok, questa è la pagina di Notion Workout Electro Challenge. Ciao e alla prossima! Ciao!